Prosegue la preparazione del basket Lemura Lucca. A poco più di un mese dall'inizio del campionato con l'Opening Day di Torino, la squadra bianco-rossa lavora in modo alacre agli ordini di coach Lorenzo Serventi. In arrivo anche le due americane, la Vongone di prossimo e la Graves il 10 settembre. Mentre la squadra va avanti con lavoro tecnico e fisico, i dirigenti si occupano anche di altre vicende pure importanti, ad esempio la campagna abbonamenti e come avere al pala tagliate un pubblico numeroso e caloroso in grado di sostenere la squadra. Abbiamo cercato di sintetizzare in una foto e in uno slogan un po' la filosofia che il basket Lemura si vuol dare ancora più forte quest'anno. Gli elementi catalizzanti sono la presenza della città e la fusione fra settore giovanile e prima squadra. Quindi le protagoniste sono tutte quante le ragazze che ormai da un mese si stanno affaticando per prepararsi alla stagione nuova e Walk This Way, al di là dell'inglesismo, è un invito, un invito a camminare tutti verso una direzione che è il palazzetto, idealmente il basket Lemura, che è un movimento che si apre alla città, si apre realmente, nel senso che siamo sempre pronti ad accogliere tifosi, sponsor, curiosi e appassionati, le scuole con il progetto Stop Bullying e lo facciamo anche con un segnale tangibile che è quello della definizione di un pacchetto di offerta di prezzi di abbonamento ribassato rispetto allo scorso anno. Ricordiamo anche il quadro degli amichevoli precampionato, la prima ed unica intrasferta è prevista con il Vigarano il 12 settembre alle 19, seguirà il 15 settembre ore 18 il match casalingo con il Rosa Empoli in una sorta di antipasto dell'opening day. La settimana seguente sarà il Vigarano a ricambiare la visita, mercoledì 19 settembre, palla a due prevista alle 19, ultimo impegno prima della Supercoppa, sempre al palla tagliate, sarà contro Torino sabato 22 settembre alle 18, poi sarà già campionato.